chi pensava avesse un flirt con damiano si sbagliava ebbene vittoria dei maneskin è stata fotografata insieme alla sua nuova fidanzata come si legge sul portale tg com le due ragazze hanno deciso di condividere anche lo stesso tetto o stanno comunque facendo le prove generali quello che si sa è che sono state fotografate all'uscita dall'appartamento di vittoria ma la fidanzata di cui ancora non si conosce il nome dopo aver salutato vittoria prende in consegna cili e dopo averla portata un po in giro rientra in casa insomma non solo baci tra le due ma anche una certa intimità che rivela un passo avanti nella relazione e 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 Grazie a tutti.